Non ha il coronavirus, il 17enne italiano rimasto a Wuhan, solo una semplice influenza che gli ha fatto salire la febbre a 37,7, perciò è stato fermato al momento di imbarcarsi sul volo che avrebbe dovuto rimpatriarlo in Italia. Adesso è in una camera d'albergo, ma la Farnesina lavora per riportarlo nel nostro paese. Estesi da oggi a tutti i voli internazionali, compresi cioè quelli europei, ma esclusi quelli nazionali, i controlli con i termoscanner per rilevare la temperatura dei passeggeri, mentre si sono improvvisamente aggravate le condizioni dei due coniugi cinesi ricoverati a Roma e sui quali è conclamata la presenza del virus. L'ultimo bollettino medico di stamattina dell'ospedale Spallanzani parla di un'insufficienza polmonare che ha costretto i medici ad attaccare marito e moglie alle macchine per la respirazione, a trasferirli in terapia intensiva, contemporaneamente vengono somministrati i loro farmaci antivirali sperimentali. In Cina intanto ha superato quota 20.000 il numero degli infetti, oltre 420 morti simili alla vicenda di Civita Vecchia, quella di questa nave da crociera messa in quarantena in Giappone. In questo scenario non si placa in Italia la polemica politica legata alla richiesta dei governatori delle regioni del nord, dopo che già ieri Veneto, Lombardia, Friuli e Trentino hanno chiesto al Ministero della Salute di applicare la quarantena anche ai bambini rientrati dalla Cina e che frequentano le scuole. Oggi al coro pro isolamento, che non di rado si intreccia una scia di notizie allarmistiche, se non addirittura false o dal ghigno razzista, si è aggiunta anche la Liguria. Ferma la replica della Ministra. Io mi sento di tranquillizzare gli studenti, le famiglie. La scuola resta un luogo di inclusione, per cui se non ci sono situazioni come quelle che qualcuno ha descritto, a scuola si va. E' giusto no mettere in quarantena i bambini di ritorno dalla Cina, le opinioni dei genitori fuori dall'Istituto Giusti di Milano, in piena Scenatown? Se sono arrivati dalla Cina sicuramente devono passare per questo periodo di isolamento. E' sbagliato, non hanno un'autorità scientifica, dovrebbe essere la scienza a prendere queste decisioni e non la politica. Non sono per niente d'accordo perché penso che le misure prese dal governo siano più che sufficienti. E' solo una forma di discriminazione verso la comunità cinese. E noi siamo tranquilli. Io e mio figlio lo mando tranquillo. Penso che così anche tante mamme. Nella classe del mio bimbo ci sono quattro bambini di origine cinese. Viviamo tutti insieme in modo assolutamente normale. Le mamme hanno paura di portare gli altri bambini a scuola, dunque per me è buona questa iniziativa. Io constaterei prima se, con i vari esami e tutto, se hanno contratto il virus. Se no, no, la quarantena no.